eccoci siamo live con marco livotto grazie di essere qui marco buongiorno grazie alessandro benvenuti a tutti mi staranno arrivando è come al solito aspettiamo un po che che arrivino tra l'altro prepariamo ci chiedo scusa forse così mi senti anche meglio sì 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 ecco avevo dimenticato di inserire il microfono siamo qua da venti minuti a fare prove tecniche poi ovviamente esatto venti minuti di chiacchiere uno si dimentica bene allora io caspita marco da quanti anni da quanti anni ci conosciamo ma 71 se non sbaglio tanti comunque ecco insomma abbiamo ci siamo conosciuti esattamente non mi ricordo dove forse a roma per la prima volta credo al photo show di roma e credo poteva essere 2012 2013 qualcosa del genere e poi io venni a reggio calabria invitato da te due volte tra l'altro una volta con francesco marzoli e volte credo sai tre volte tre volte bravo hai ragione sì perché facciamo due cose reggio e una pente d'attilo invece se non sbaglio e allora quattro volte ero sempre in calabria abbiamo fatto prima il appunto quella quel white campus assieme a francesco marzoli che peraltro esatto anche lui tra qualche settimana sa bene incontri poi un color correction di primo livello il color correction di primo e di secondo assieme si è uscito con i capelli bianchi e poi abbiamo fatto l'altro incontro dedicato al paesaggio in occasione del festival attento esatto con romano se non sbaglio anche romano sempre belle tra parentesi nell'ultimo esame di fotografia che ho dato una foto da correggere era pente d'attilo perché è un paesaggio particolarissimo con dei colori corretti ma non semplici ecco è stato interessante quello che è venuto fuori comunque ecco vogliamo iniziare non so tra io una dominante blu in doppia dominante ti spiego perché perché io ho una finestra da questa parte che è questo è il problema tu lo sai benissimo e tutti i matrimonialisti voi siete ancora più esosi avete triple quadruple multiple dominanti no perché ci sono tutti i tipi di illuminazione possibili in chiesa dalle candele alla luce che filtra alle vetrate alle lampade incandescenza sopra in qualche posto addirittura cose tipo neon o così ed è un vero problema che poi si può risolvere possiamo anche vedere fare qualche esempio ecco di come si può affrontare diciamo una difficoltà del genere però ecco da dove vuoi che cominciamo non lo so riporto un po di saluti insomma un po di amici stanno sono collegati stanno salutando in particolare davide lagana di cui ricorderai davide assolutamente proprio il primo e il secondo livello di fila e gli è cresciuta la barba in quell'occasione ecco quindi ma me lo ricordo con molto piacere ci siamo anche incontrati a un certo punto a milano se non sbaglio la mattina per quasi per caso a ma sei a milano si vieni che prendiamo un caffè deve essere andata così più o meno e ciao davide comunque felice di saperti online ciao marco ciao marco ci sono dei marco che salutano ciao nicola io inizierei dalla dalla fotografia dall'immagine che abbiamo utilizzato per pubblicizzare l'evento ok certo allora guarda vado a condividere il mio schermo un attimo solo di pazienza si sarebbe forse interessante anche perché molto semplice in realtà spiegare perché ho scelto proprio quell'immagine allora questa immagine è una fotografia molto semplice tra l'altro una foto che ho fatto io ma assolutamente non professionale molto amatoriale credo non vorrei sbagliare in un museo di roma e questa cosa che vedete è abbastanza emblematica perché perché ci sono nove versioni di questa immagine la prima cosa che dico ma in maniera assolutamente non provocatoria è che mi sono accorto facendo i corsi la propongo spesso che ci sono un bel po di persone anche di fotografi devo dire che fanno fatica a riconoscere esattamente il tipo di dominante perché è ovvio che ci sono delle dominanti queste sono tutte varianti fatte ad arte diciamo simulando delle dominanti è il tipo di dominante e l'area cromatica in cui cade allora vediamo un attimo come le chiameremmo se volessimo adottare una terminologia così sensata se vogliamo dal punto di vista colorimetrico questa foto io la chiamerei neutra quella centrale poi magari vediamo perché questa partendo da qua ha una dominante gialla qui siamo nel rosso questo è un magenta magari prendo un altro strumento che si veda un po meglio questo va bene ecco questo è un magenta qui siamo nell'area del viola questo è un blu questo è un ciano tecnicamente e qui abbiamo due tipi diversi di verde entrambi questi noi li chiameremmo verdi perché noi abbiamo un termine univoco per definire questa classe di colori che è il verde però per esempio nella cultura britannica nella lingua britannica ci sono due parole distinte questo si chiamerebbe un verde detto teal scritto teal e questo è un verde detto lime scritto lime quello che noi diremmo di solito è che questo è un verde vegetale tra virgolette perché si vede e infatti è vicino al giallo non è un caso che ha una componente gialla piuttosto marcata e questo invece è un verde più freddo quello che forse chiameremo un verde acquamarina con un termine un po però è interessante che noi diciamo verde qualcosa mentre altre lingue usano dei termini molto specifici se volete capire che cos'è un verde teal guardate certi vestiti della regina elisabetta è un concetto molto britannico quel verde che noi vediamo raramente sostanzialmente perché vi faccio vedere questa immagine perché a me piace fare un esperimento l'ho fatto veramente decine di volte e il risultato è sempre lo stesso adesso passo a una cosa completamente diversa che è una tabella excel allora guardate questi sono i voti tra virgolette che alcuni miei allievi dell'accademia trentino art academy riconto in quel giorno erano 16 se non sbaglio hanno dato nel giro di dieci minuti davanti all'immagine che vi ho mostrato partendo guardate lime giallo rosso verde neutro eccetera praticamente loro l'hanno letta se vogliamo così vedete lime giallo rosso questo l'ho chiamato verde neutro magenta eccetera eccetera e io gli ho detto avete nove versioni voglio che le classifichiate con un voto da 1 a 9 dove 1 è il più basso 9 è il più alto e quello che secondo voi è la migliore in base a un criterio semplicemente estetico tra virgolette vostro e poi facciamo una classifica questo tipo di esperimento sembra inutile ma in realtà non lo è affatto perché guardate cosa succede allora andando a fare la media dei voti si scopre questa classifica che salvo pochissimi casi è sempre 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 identica fa vincere assolutamente con 9 voti su 9 voti su 9 è una varianza cosiddetta dello pari a 0 cioè è un voto assolutamente univoco 100% dei voti come vedete va a questa immagine come la migliore cioè dovendo scegliere tra tutte chiunque sceglierebbe la versione centrale poi con un punteggio piuttosto alto la gialla la blu la rossa la verde e fanno line di coda pian pianino a scemare il magenta il ciano il lime e il viola detto terra terra neutro piace a tutti giallo piace a molti blu abbastanza anche e poi come vedete c'è un salto notevole rosso verde magenta ciano e lime fanno a scemare mentre il viola è proprio il fanalino di coda e nessuno lo vuole guardate per dire voto 12 qualcuno ha dato 5 c'è anche un 7 qui curiosamente però un altro 2 un 6 un 4 1 1 2 1 1 sono voti molto molto bassi cosa vuol dire questo vuol dire che le persone davanti a una foto del genere non hanno tanti dubbi su quella che sia la versione adesso metto mille virgolette corretta e questo è misterioso è misterioso perché che ne sapete di com'era quella statua a priori questa è la domanda nel senso se io vi faccio vedere questa foto qua isolata è molto ragionevole ma per certi versi potrebbe essere molto ragionevole anche questa versione qui e infatti il giallo come avete visto è andato abbastanza bene potrebbe essere ragionevole questa qui che magari vedreste come opla la foto di una fa di una statua sostanzialmente neutra illuminata una luce freddina questo è il blu il fatto è che a nessuno va giù una cosa del genere e questo è per lo meno curioso perché se ne guardiamo queste sono molto diverse ma c'è una parentela sono foto vicine non è un caso io non ho messo questi colori a caso questo è un po un riassunto estremamente schematico anche se c'è una rotazione in mezzo di quella che è la famosa ruota dei colori cioè voglio dire quella che è il rosso in cima noi qua ce l'abbiamo a destra e poi passa attraverso tutte le altre scusate il rosso è questo volevo dire è semplicemente un po' invertita diciamo ma essenzialmente è quella eppure certi colori ci piacciono più di altri e io avevo pensato di proporre questa immagine proprio per lanciare una provocazione perché certe cose ci piacciono di più e di conseguenza perché certe foto dovrebbero essere corrette piuttosto che no tolgo la condivisione e ti lascio la palla a questo punto perché so che mi vuoi fare uno scherzo ecco ma prima dello scherzo in effetti diciamo noi io avrei dovuto presentarti prima di farti iniziare a parlare ma ti sei presentato da solo c'è in qualche modo già con questo primo esempio questa prima questo primo racconto è venuto fuori un po di della tua follia che poi follia in senso buono cioè che quella passione che ti contraddistingue che ti fa fare cose un po strane come prendere appunti e fare una statistica di quelle che sono le votazioni rispetto alla dominante preferita da una classe in realtà dicevo noi ci conosciamo da molti anni ma tu hai una formazione eclettica sei un fisico hai ti sei occupato di produzioni musicali suoni anche e talvolta canti e registri dei pezzi con con tuo figlio e poi hai studiato con 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 dan margolis molti anni fa da lì in poi dopo un po di tempo insomma hai cominciato a a formare amatori e professionisti fotografi professionisti nell'ambito della correzione del colore ti sei occupato anche non se non ci si può esimere di di gestione del colore e negli ultimi negli ultimi anni si è diventato anche ambasso ad ora livello europeo di eiso quindi una è sicuramente dimentico altre mille cose quindi una super 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 carriera una formazione e e e tante passioni diverse tra di loro ma che poi sono sicuri in qualche maniera eh si sono si sono collegate no ci avrei fatto poi tanti tanti cortocircuiti ma io ti ti ringrazio di questo riassunto che è essenzialmente corretto ma che ti devo dire la verità te lo dico col cuore in mano è anche un po imbarazzante nel senso che eh in tutta franchezza eh e io continuo a ripeterlo poi la gente non mi crede ma eh se io sono qui stasera e se sto facendo queste cose in larga parte è stato per caso cioè voglio dire ci sono capitato non è una cosa che ho cercato e le cose che hai detto tra l'altro sono molto collegate te la racconto in un minuto il fatto che io mi occupassi e mi occupo tuttora in realtà di produzione musicali all'epoca oggi sai è tutto online non ci sono grossi problemi ma all'epoca si producevano delle cose ormai obsolete e stantie che girano voci che spariranno presto che si chiamavano cd i cd anche dvd in campo video i cd avevano delle parti grafiche le parti grafiche andavano stampate io per anni ho lottato contro il fatto che mi appoggiava uno studio grafico di cui ero estremamente soddisfatto a livello di risultati progettuali ma poi otto volte su dieci le cose in stampa andavano per aria nel senso che io mi aspettavo un risultato e usciva un'altra cosa l'immagine era molto piatta e poi il cliente non era felice allora bisognava raccontargli la storia dell'orso per convincerlo che cioè avevo questa incertezza cercando di fare i lavori bene e naturalmente cercavo delle risposte risposte che naturalmente non mi arrivavano nel senso che c'era molta confusione qualcuno diceva di saper le cose però poi non riusciva a spiegartele bene o perlomeno tu ci provavi dicevi forse non va esattamente così fino a che a un certo punto ed era il 2007 quindi sono passati 13 anni in sostanza in viaggio di piacere assolutamente da un professionale a londra scopro un libro di da margolis appunto che mi attira perché sfogliandolo proprio in piedi in libreria dico ma sembra che qua dentro ci siano tutte le risposte che ho cercato negli ultimi cinque sei anni e che in qualche modo non mi sono arrivate ho comprato questo libro libro impegnativo perché ho pagato 70 80 stelline all'epoca e ho cominciato a leggerlo quella sera in albergo risultato che alle quattro di mattina ero ancora lì col libro gli occhi a dragone cinese dicevo quest'uomo o è matto o dice le cose giuste poi ho scoperto che era matto e diceva le cose giuste che è la combinazione più bella dal punto di vista è tutto nato da lì dalla mia esigenza di migliorare dei lavori di cui che non facevo io materialmente io non ero uno stampatore ma volevo capire come interfacciarmi questa categoria e lì si è aperto un po un mondo ho fatto i corsi con margolis questa voce un po girata ed è stato proprio francesco marzoli che mai smetterò di ringraziare o maledire non lo so questa cosa ringraziarlo ovviamente è il primo pazzo furioso che ha detto tu devi venire a fare un corso a pescara te lo organizzo io e io quel giorno me andai da pescara dopo il primo famoso ccc correva il 2011 dicendo beh è stato interessante nella vita ho fatto anche questo una volta ma non potevo pensare che dieci anni dopo sarei stato ancora qui perché secondo me è semplicemente perché a un certo punto ho cominciato raccontare delle cose anche imparandole nel tempo perché è un processo di di imparare in pubblico di maturazione che in qualche modo risultavano interessanti e utili capisci è andata così per cui sono felicissimo che sia successo ma mi sorprendo io stesso di questa cosa insomma io semplicemente ho cercato di fare meglio che potevo e a qualcuno è piaciuto tutto qua nient'altro bellissimo peraltro vedo che hai anche la la t shirt di eis o quindi si si la maglietta ordinanza però ti assicuro che non è non è voluto ciao roberta scalisi se mi stai vedendo l'ho pescata stamattina dal cassetto senza pensare ci ti dico la verità ma andiamo un abbraccio a roberta e allora effettivamente so che mi vuoi fare uno scherzo sì perché ti ho mandato poc'anzi una fotografia che ti prego di mostrare veramente che è una fotografia provocatoria tra virgolette c'è uno di quegli esempi in cui la correzione del colore porterebbe ad una ad un risultato banale mentre invece una fotografia che è da un certo punto di vista appunto rispetto a quelli che sono i nostri parametri numerici eccetera no dei valori dell'incarnato e di tutte quelle cose che studiamo appunto quello che c'è un campus e poi continuiamo ad approfondire ecco da quel punto di vista sarebbe una foto sbagliata ma probabilmente proprio per questo è un'immagine estremamente affascinante ma assolutamente ma ti dico anche che questa è ho capito perché l'hai chiamato una provocazione ma è anche uno una delle immagini in cui in negli ultimi 10 13 anni a seconda come li vuoi contare ho cambiato proprio una posizione filosofica nel senso che questa è la classica immagine quando vai a fare classico da margolis ti ci butti sopra e cerchi di correggerla ecco oggi la mia posizione un po diversa non dico che questa immagine non vada corretta se volete vi faccio vedere come si fanno dei colori più ragionevoli è assolutamente semplice nel senso che senza stare a fare tanta tecnica io sono in photoshop duplica uno sfondo prendo il colore medio d'accordo questa è semplicemente la media dei valori rgb dei pixel inverto questa cosa e quindi va in un'area di complementare metto questa in metodo di fusione colore naturalmente vira in bluetooth all'immagine ma se vado al 50 per cento qualcosa ho fatto cioè ho desaturato ma ho anche tolto parecchia dominante attenzione non si può dire che sia perfetta però forse se dovessi partire per fare qualcosa di sensato preferirei partire dalla mia versione quella che ho fatto adesso rispetto all'originale e questa operazione l'avete vista richiede 10 secondi e nessuna tecnica si potrebbe fare praticamente anche con un'azione automatizzata qual è il problema il problema è che dal mio punto di vista questa cosa è sbagliata e vi dico perché ma intanto perché questa foto non l'ha fatta mio figlio col cellulare un giorno e uno che non sa fotografare questo è un fotografo magnum questo è alex web e se uno va a leggersi la storia del fotografo alex web si accorge che ha fatto tantissime cose ma i suoi reportage sono caratterizzati da un uso estremamente creativo del colore cioè mi confermi se sei tu l'esperto alessandro ecco una dei cromatismi molto vibranti eccetera eccetera per cui in un contesto del genere che la cosa sia irreale perché probabilmente lo è anche se non lo sappiamo io non ero lì quando questa foto è stata fatta ma ecco andare adesso non è un'immagine altissima risoluzione ma andare a impuntarmi che questa sigaretta dovrebbe essere bianca per dire no quando una qualsiasi lettura che io posso fare in photoshop o qualunque altro software mi dice guarda leggiamo i numeri lab in cima a destra anche chi non lo sa fare fidatevi quel 26 nella e quel 48 nella b mi dice che sto guardando un arancione intenso cioè io campiono questo colore alt canci vi riempio la foto questo è il colore che stavamo guardando è tutto fuorché bianco ecco impuntarmi che quella sigaretta dovrebbe essere bianca su una foto del genere sarebbe perlomeno discutibile e dico la verità lo dico con un sorriso ma fino a un certo punto se anche mi venisse voglia di farlo non tanto a livello di esercizio ma a livello di produzione forse sarebbe il caso di prendere il telefono chiamare alex web dire tu cosa ne pensi e alex web mi tirerebbe una parolaccia nel senso che dice chi sei tu per correggere il mio colore cioè questa è la mia visione questo è il mio stile e allora lo dobbiamo rispettare però attenzione c'è un rovescio la medaglia io non sto dicendo che questa foto non vada corretta ha fatto e non mi sto contraddicendo perché guardate una cosa che io andrei a verificare subito ad esempio se qualcuno mi dicesse vara che bella sta foto di web abbiamo la licenza la mettiamo su una pagina di un articolo su di lui che facciamo per una rivista bene noi qui stiamo lavorando in rgb la rivista verrà stampata in cm yk con opportune condizioni io andrei a vedere che cosa succede ai colori di questa foto e tra l'altro abbiamo una sorpresa perché perché si sente sempre dire guarda che cm yk è uno spazio colore in cui i colori si smorzano questa dei colori fortissimi verrà un disastro signori non è vero guardate un po se io vado sul menu visualizza e vado a impostare come prova l'ho già fatto prima cm yk di lavoro che non è altro che una condizione di stampa che viene definita a livello di impostare mio mouse scusate c'è qualcosa che non va ok a livello di impostazioni colore e qui come vedete nella finestra che spero appaia io ho un banalissimo coated fogra 39 che non è neanche lo standard attuale ma è di fatto quello che viene più utilizzato oggi a livello di stampa litografica comunque mi definisce la tavolozza che io posso tenere in stampa in linea di massima bene io vado a impostare dicevo la prova colore su questo cm yk di lavoro e la prima cosa che faccio è lanciare un avvertimento gamma e guardate che sorpresa l'avvertimento gamma copre con un'area grigia un overlay cosiddetto le aree che risulterebbero non stampabili nel senso non contenute dal punto di vista cromatico fuori gamut come si dice nello spazio destinazione e guardate un po qua tutti i colori sono stampabilissimi a parte una striscia di questo rosso che sinceramente non mi preoccupa cioè voglio dire se avessi avuto un collasso cromatico qui sul soggetto sarei stato molto preoccupato ma con rispetto parlando dal punto di vista tecnico a me che mi frega se questo si sbiadisce un po qui siamo nello sfondo cioè non è un elemento che dal punto di vista fotografico è così fondamentale andiamo a vedere contro prova perché l'avvertimento gamma mi dice dove ho il problema ma non mi dice quanto è intenso se io adesso vado a simulare la prova colori vedo se effettivamente i colori si conservano o meno proviamo faccio prova colori che è un command y e guardate così è accesa lo vedete perché qui c'è barra cm yk e photoshop vi sta dicendo guarda che ti sto simulando un output non c'è nessuna conversione in corso è solo una una proiezione diciamo di quello che succederà command y invece questo va via e ci accorgiamo che i colori sono assolutamente invariati salvo se guardiamo bene quest'area qui dove ho il contagocce che effettivamente un pochino ma proprio un pochino appena appena si sbiadisce quindi dov'è il problema abbiamo una foto che è perfettamente stampabile il problema ve lo dico subito dove sta sta nel fatto che chi abbia frequentato questo mondo sa che stampabile non stampabile quest'area qui che è importantissima perché qui c'è l'espressione del soggetto e già la vediamo pochissimo se andate sulla carta con questa è totalmente chiusa cioè questo sarà nero vedrete al massimo una macchietta qui e intuirete che c'è un occhio ma non riuscirete a vedere per esempio una cosa che a schermo vedo la forma del naso sarà così poco accennata ammesso che ci sia che non ne venite fuori e a questo punto io interverrei in maniera correttiva non tanto sul colore ma una correzione destinata a un output specifico in altri termini se scusate il gioco di parole alex web deve andare sul web con una bisola mandatela così non c'è problema ma se dobbiamo andare in stampa litografica io andrei a toccarle queste ombre mi duplico il livello comangei mi lancio un una regolazione molto semplice come ombre luci e vado a fare un'operazione del genere in un caso del genere vi dico la verità forse anche un pelino più di così siamo a 22 23 troviamo le luci naturalmente mi farvi capire in maniera brutale cosa succede a questo se io schiarissi le ombre e chiaramente non è proponibile ma vedete vado a tirare fuori oltre che gli ultracorpi di rumore che ci stanno in un'area del genere di un jpeg e vado a tirare fuori cose che neanche pensavo ci fossero nell'immagine se mi limito ho semplicemente la possibilità di aprire un pochino le ombre e salvare in questo modo in qualche modo la stampa le luci fa il contrario se io tiro questo al massimo qui luci piene abbiamo solo lo sfondo ma vedete cerca di scurire di tirare fuori dettaglio da lì naturalmente non voglio niente del genere anzi potrei addirittura dire che 0 per cento i luci mi sta bene per una scelta più estetica che altro e io vi dico manderei tranquillamente in stampa questa versione piuttosto che questa e la domanda è alex web si arrabbierebbe di una manovra del genere dal mio punto di vista no perché perché gliela sto salvando questa foto in stampa capite quindi correzione del colore e tante cose è anche correzione della luminosità e riallocazione del contrasto è pensare che su quel dispositivo su quel media su cui tu vai a a riprodurre l'immagine ai dei problemi nelle ombre piuttosto nelle luci e intervieni di conseguenza quindi è una preparazione dell'immagine per un output certe volte capisci e quindi stavo stavo facendo una una lezione si con dei ragazzi sulla sulla stampa e quindi abbiamo mandato per abbiamo fatto una prova mandando in stampa un una 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 mia fotografia prima di mandarla in stampa l'ho un attimo aperta sistemata insomma si dice ma come tu risistemi la fotografia ogni volta che che la devi stampare dico no a meno che nel frattempo non sia non siano passati degli anni non si è cambiato il mio gusto ma di certo la post produco in maniera differente in funzione del dell'output per l'appunto al quale è destinata perché chiaro appunto che l'immagine per il web è una cosa ma anche banalmente un'immagine stampata in fine art o eh stampata invece appunto in tipografia eh ci danno o anche semplicemente una stampa laser insomma quello che sia ci hanno risultati completamente differenti nei casi migliori lo stesso laboratorio ogni volta che gli mandi un file anche se il file uguale stampa versioni differenti ma questa è un'altra storia sono le storie che non dovremmo raccontare ma purtroppo sono reali questo sì assolutamente comunque ecco questo era un esempio ci scusiamo con Alex web promettiamo di notare le sue fotografie poi se me lo permetti scusa vorrei vado un attimo a ricondividere ehm così vorrei spezzare una lancia per una volta nei confronti dei fotografi no che vengono talvolta molto 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 vituperati a volte ha ragione a volte anche no chiudiamo un attimo ma no lasciamola pure aperta questa immagine allora ogni tanto eh io parto nei miei corsi da foto che ti dicono sì vabbè ma io sono un professionista non ti porto una foto così brutta detto in codice fuori dal codice io sono più bravo di così cioè mi stai facendo vedere delle cose su un'immagine che è totalmente massacrata per forza se usi e tecniche vengono fuori ma questo non è reale allora vi faccio vedere una delle foto dal mio punto di vista perlomeno più belle in assoluto che abbia post prodotto abbiamo dato una soddisfazione enorme anche perché quando poi l'ho vista stampata in un libro vi assicuro che è stata una grande emozione in un grande formato allora questa è una ripresa dall'alto non è un'altra risoluzione ma mi interessava farvi vedere il così i colori la luminosità eccetera di una foto realizzata dall'elicottero questa è milano naturalmente di notte questo è il palazzo della regione se non erro potete vedere qui anche la scritta expo ed è una foto che io trovo che abbia una prospettiva e una e una profondità notevoli non so se qualcuno di voi ha mai provato sia interessato alle problematiche di scatto all'elicottero ma quando io ho lavorato con il fotografo ho imparato un sacco di cose perché poi è bello imparare cose e l'idea è semplicemente che siccome l'elicottero vibra voi vibrate con lui siete su un corpo che continua a tremare e fatela voi una foto di notte cioè o sparate degli iso assurdi e naturalmente sappiamo che oggi la riduzione il rumore fa miracoli che ci sono dei sensori fantastici ma il succo della faccenda ragazzi alla fine è che quel rumore viene su nelle ombre vi mangia in sostanza adesso ripeto non ho un'altra risoluzione davanti ma qui questa h vi assicuro che se andate oltre queste scritte oltre un certo limite di di iso non esce più niente cioè veramente è difficile a bassi livelli tirar fuori la roba e allora cos'è che si fa si fa con quel che si può anche perché mi diceva un fotografo che dovendo scattare in assoluta perlomeno con ragionevole sicurezza di non avere micromosso col teleobiettivo eccetera 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 dovresti scattare un ottocentesimo di secondo allora io vorrei farvi vedere dovrebbero esserci dentro dalle info quali sono i dati di scatto questa foto è stata fatta con un 24 mm quindi a quel punto di vista siamo fortunati perché il grandangolo è molto meno sensibile alle vibrazioni di un tele ma signori siamo a un ottantesimo di secondo a f 2 8 a 3.200 iso cioè voglio dire siamo con un tempo dieci volte più lungo ok di quello che servirebbe per fare una foto tra virgolette ferma e io da fotografo come fai a essere sicuro invece semplice mi metto lì scatto una raffica ne faccio 30 perché perché statisticamente questa è l'oscillazione se io sono abbastanza fortunato da beccare una foto nel punto in cui sono più basso lì l'elicottero è fermo perché sta invertendo la sua vibrazione e quella foto è a posto quindi poi me le guardo tutte la migliore la tengo posso farvi vedere l'originale questa è la mia post produzione non c'è trucco non c'è inganno sono andato a recuperare il raw e guardate questo è un fotografo che ne sa davvero ne sa non è uno che si è improvvisato quello che vedete signori è venuto fuori da qua questo è l'originale chiaro ok e guardate tutto a zero c'è un minimo 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 di riduzione di rumori di luminanza perché siamo 16 non c'è maschera di contrasto però voglio dire fatta anche con una signora macchina con dei signori obiettivi ma questo è quello che avete ok e guardate questo file curiosamente non è in nessun modo clippato d'accordo cioè non ha clipping non ha pixel totalmente chiusi non ha aree bruciate e se volete sapere come l'ho sviluppato d'accordo il primo sviluppo che ho fatto ci resterete malissimo ma io l'ho tirato fuori così ho tirato fuori una versione che era ancora più piatta e terribile dell'originale perché nessuno vorrebbe una foto così spettacolare che sia ma sapete perché perché mi serviva vedete cosa è successo quando io abbassato il contrasto che si è aperta si è addolcita la curva delle ombre e io sono partito da un originale del genere per arrivare là perché perché anche se più brutta come versione rispetto all'altra in quest'area mi comincia a mettere in atto delle cose che mi servono cioè io qui ho un margine piccolissimo di lavoro che con una curva del genere non ho e il messaggio che vi sto dando è che a volte l'originale peggiore aperto in photoshop è quello che vi dà le soddisfazioni più grandi perché se lo sapete usare fare bene lo so che qui solleverò tutta la serie di cose ma guardate che photoshop batte camera raw e lightroom 20 a 1 e purtroppo è così attenzione su certe cose no voglio dire non abbiamo la chiarezza per dire non abbiamo un rimuovo ma sono tutte cose che si riescono a fare in certi casi lavorare sul raw non è una buona idea io preferisco avere un raster che chiunque direbbe questa la butto via perché perché da quello rullo di tamburi vi faccio questo e vi assicuro che non ho ritoccato niente a mano questo è ciò che la fotografia sa di se stessa se andate a piccolare nel punto giusto e mi sembra un buon risultato d'accordo volete sapere se è realistico guardate non lo so e non me ne può fregare di meno è bello è bellissimo perché quando la vedete stampata vi sembra di essere lì sopra poi vogliamo sindacare se questa cosa l'avamo vista blu viola oscura o neutra ma non mi importa minimamente qui correzione significa fai vedere questo risultato è incredibile ma questa cosa stampata le dimensioni giuste vi viene addosso dalla pagina è stata una grande emozione vederlo capite cosa intendo quindi questo è un po il messaggio ogni ogni foto la sua storia esatto che poi in realtà questo discorso parte da dalle origini cioè da uno dei primi a teorizzare discorsi di questo tipo è stato Ansel Adams che talvolta sbagliava volontariamente qualcosa in fase di scatto perché poi correggendola in fase di sviluppo e o in fase di stampa sarebbe riuscita a ottenere il risultato che va in mente ecco la cosa fondamentale poi è questo il fotografo allieva piena coscienza di quello che avrebbe dovuto fare per ottenere il migliore scatto da cui partire per l'elaborazione e tu avevi le idee chiare su come portare quello scatto a un livello superiore rispetto a quello che era il gusto del fotografo a quello che erano le sue esigenze anche il tuo gusto che tu hai magari proposto appunto al fotografo in questa collaborazione quindi e tra l'altro citi giustamente Ansel Adams che tra virgolette sbagliava questa foto che è poi il mio discorso originale dal punto di vista fotografico tu mi insegni è clamurosamente sottoesposta ma di brutto cioè si poteva scattare molto meglio da un certo punto di vista ma cosa fai rischi di scattare un ventesimo di secondo un elicottero f2 8 è la cosa più alta che hai 3200 iso sei a rischio io scusatemi ma sottoespongo tutta la vita e la martello dopo ho fatto discussioni enormi io fotografo concerti spesso è lo stesso problema non puoi pensare di esporre a destra in un concerto la regola del expose to the right è verissima in teoria ma ci sono dei casi in cui in pratica non la puoi applicare o perché ti si muove il mondo come in una foto come quella che abbiamo visto in milano dall'elicottero o perché semplicemente vai a come si dice a bruciare completamente delle luci che invece vorresti tenere d'accordo io l'ho provato avere un cantante biondo sotto un faretto cioè è più luminoso del sole rispetto al resto ma chiudiamo le ombre che non c'è problema però teniamo il soggetto vivo ecco questa è la mia idea perlomeno qualcuno dice giustamente anzi l'adam se la chiamava visualizzazione in effetti sia il concetto proprio uno dei concetti chiave della sua della sua filosofia l'idea di vedere prima lo scatto che avremmo ma in tutti questi ragionamenti o comunque quanto ha influito la tua formazione appunto data da prima ti occupa e ti occupa e ti occupi di produzione musicali quindi cosa c'entra la musica o in che modo a che fare con la fotografia e con la correzione del colore con la stampa eccetera e poi anche è ancora di più la la i tuoi studi legati alla fisica no come si sposano con la percezione ma parto dalla seconda parte della domanda che ha più facile sai la fisica si 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 occupa di tante cose in particolare intendo a tanti rami in particolare a molto chiaro la fisica come funzionano le onde elettromagnetiche tant'è vero che io e te ci stiamo parlando grazie a una trasmissione che in ultima analisi ribaltiamola come vuole avviene perché ci sono delle onde elettromagnetiche la luce c'è un'onda elettromagnetica quindi chi voglia studiare la luce in dal punto di vista del fenomeno fisico deve andare a vedere questo cioè le equazioni che maxwell scrisse più o meno verso la metà dell'ottocento che teorizzano bla 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 e da lì viene fuori tutta una cosa estremamente affascinante no per cui scopriamo che le microonde del nostro forno come i raggi x che ci somministrano quando vogliono vedere se ci siamo rotti una gamba o le onde radio più lunghe che girano e che attraversano letteralmente la terra sono della stessa natura e variano solo per un parametro si chiama lunghezza d'onda parametro che ha delle variazioni mostruose cioè veramente di tantissimi ordini di grandezza onde che sono che oscillano diciamo sulla lunghezza di un nucleo atomico e onde che sono lunghe letteralmente migliaia di chilometri c'è tutto in mezzo e lì in mezzo c'è una piccolissima microscopica area di ridicola dimensione proprio pochissimi pochissimo rispetto al al tutto così poco che non riesco neanche trovare un paragone per dire cioè non è voglio dire guardate questo è lo spettro elettromagnetico e il mio dito è il luminoso no no qui parliamo di 10 alla 23 rispetto a uno c'è un numero inimmaginabile e quella roba lì è quello che noi chiamiamo luce e già è è incredibile che questa piccola cosa abbia combinato tutto tutto sto casino anche per i fotografi per i pittori per gli artisti grafici e parti da lì e poi abbandoni la fisica e cominci a studiare come la luce interagisce col nostro sistema visivo che non è solo gli occhi gli occhi sono solo il punto l'ingresso ma poi c'è il sistema nervoso il cervello cosa accade nella corteccia un sacco di cose e devo dire è uno scavo che più ci vai dentro e meno a fine nel senso che molte cose non sono ancora chiare sappiamo molto poco del cervello molto bene alcune cose altre sono tabula rasa quindi è un percorso che uno fa ed è incredibilmente affascinante anche dal punto di vista culturale oltre che scientifico quindi questo è stato il ruolo della fisica la fisica mi è servita pochissimo da un certo punto di vista se non per capire la natura della luce ma perlomeno mi ha dato un minimo di impostazioni mentalità scientifica per cui se vado a leggere io che non so nulla di biologia o di fisiologia un articolo scritto bene sul sistema visivo intuisco perlomeno di cosa parla cioè è un linguaggio che tutto sommato anche se è una scienza diversa in cui non mi reputo esperto in nessun modo però condivide perlomeno alcune cose quanto riguarda la prima domanda che hai fatto come come ha influenzato la verità è che non lo so cioè è strano ma la mia testa è una grande macedonia è un tutt'uno cioè per me sono tanti aspetti e tutti mi attirano ecco non arrivo a ne ne parlavo oggi con la mia studentessa di questo non arrivo a parlare di sinestesia che è quel fenomeno per cui tu senti una nota musicale percepisce un colore allo stesso tempo che è un fenomeno assolutamente reale biologico che capita nel cervello per stimolazioni di aree questo no ma che per me sia tutto molto connesso in qualche strano modo che non so spiegare questo sì questo sì cioè non vedo una grande differenza tra 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 un'opera tra un'opera musicale e un quadro o una fotografia nel senso che per me sono linguaggi mi illudo tanto così al giuro tanto così di avere capito un pochino questi linguaggi perché poi è uno studio che travalica secondo me passa i confini di una vita umana se si vuole approfondire e credo di essere stato incredibilmente fortunato semplicemente di aver avuto a un certo punto gli stimoli giusti per farlo e parto dalla mia famiglia e vengo su attraversando tutta la serie di persone mi hanno detto guarda in quella direzione io sono stato abbastanza incuriosito a guardare se nessuno l'avesse fatto sarei molto più povero adesso e forse è per quello che io continuo a dire guardate in quella direzione guardate in quella direzione perché magari qualcuno è interessato e e ci guadagna e a quel punto anche didatticamente insomma quello che ho fatto non sarà stato inutile per quanto mi riguarda certo ma peraltro vabbè qualcuno inizia a fare qualche domanda poi tele tele giro tutte naturalmente quindi continuate a scrivere le domande nei commenti e poi con calma ragazzi e però tu sei parlato della tua famiglia adesso probabilmente riferendoti alle alle generazioni precedenti ma io vorrei considerarmi sulle generazioni nuove sul tuo figlio cioè come tuo figlio che per quello che ho capito è stato usato senza neanche alcun compenso voglio dire quindi si tratta di sfruttamento di minore assolutamente per tanti tanti anni come poi lui ti ha come dire aiutato o ti è stato appunto utile nella nei tuoi ragionamenti sulla percezione ad esempio ma intanto comincio con una battuta tu sai che ho fatto credo di poterla rivelare questa cosa perché la trovo troppo divertente io ho fatto molti corsi per teacher in a box d'accordo e la persona che all'epoca la mia il mio interlocutore la mia interlocutrice in realtà perché era una donna per questi corsi che era anna paola tamburini e aveva origini argentine aveva questo meraviglioso attento sudamericano e mi ricordo che una volta quando arriva il sesto settimo corso mi prese e mi disse i tuoi corsi sono magnifici ma basta usare foto il tuo figlio e aveva ragione aveva perfettamente ragione perché è stato il mio soggetto fotografico se io mai ho imparato i rudimenti del ritratto da da non professionista quale sono in campo fotografico è stato proprio grazie a lui che è facilissimo da fotografare tra l'altro perché ha degli occhi molto espressivi e naturale come molti bambini tra l'altro sono soggetti facili se se lo fai in due minuti se devi tenerli mezz'ora è un altro discorso cosa mi ha insegnato mio figlio ma in termini di colore ma bastonato un paio di volte mi ricordo un episodio in cui eravamo al bar eravamo seduti in una piazza e lui stava imparando i colori quindi non so dirti quanto aveva ma credo circa tre anni d'accordo e praticamente mi indicò un telone che c'era sopra un era un bar credo c'era praticamente questa tenda che che serviva naturalmente per fare ombra e mi disse papà quello è grigio io mi girai distinto ed effettivamente la tenda non era bianca era un po più scura del bianco il condominio bianco dietro era parecchio più chiaro ma io mi accorsi che era era aveva una leggerissima tendenza al viola magenta se vogliamo parlare dei colori brutti di prima e io dissi sì amore è grigio ma è un grigio che va un pochino se guardi lui la guardò e gli dissi è viola perché spiegare magenta o ma ben tre anni è un po più complicato lui la guardò poi mi guardò molto severamente mi disse no è grigio e effettivamente io capì che chiamare viola tre punti in lab forse era un attimo eccessivo no è quando la la voce del realismo ti riporta ti riporta sulla strada in qualche modo ma in generale quello che si impara da da un bambino non parlo solo di mio figlio parlo di molti bambini che ho incrociato è lo sguardo sorpreso sul mondo e avere curiosità questo è fondamentale quello è una cosa che noi adulti tendiamo a dimenticare altrimenti e questo sono grato a tutti i bambini del mondo comunico anche ufficialmente che io sto cercando di capire cosa voglio fare da grande quindi ci arriverò un giorno insomma esatto e invece ricordo un aneddoto che era molto interessante che raccontato c'è più che un aneddoto è qualcosa sempre legato alla alla percezione del colore al e al verde alla percezione del dell'uomo dell'occhio umano rispetto al al colore verde ti va di 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 condividere questa storia sugli uomini primitivi e la caccia alla sopravvivenza ma sì in realtà credo che il discorso mi ricordo molto bene questa cosa il discorso è questo che il verde è uno dei colori più importanti per noi ed è uno dei più difficili da riprodurre in fotografia non è un caso se nello schema di buyer i sensori il filtro di buyer che hanno davanti il famoso mosaico se noi guardiamo il quadratino che contiene le quattro tesserine mosaico ci sono delle varianti ma la 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 lo schema regolare rosso verde verde blu rosso verde verde blu rosso verde verde blu cosa vuol dire che per ogni filtrino rosso ci sono due filtri verdi in altri termini che non c'è rosso verde blu rosso verde blu in quantità uguale e questo ha tutta una serie di ragioni innanzitutto per quanto riguarda la luminosità questo è ecco benissimo stai facendo vedere che cos'è un filtro di buyer e poi si vede benissimo che c'è una predominanza diciamo di 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 tessere verdi intanto perché è un discorso un po complesso ma la curva di sensibilità dell'occhio alla pura luminosità a un picco proprio nell'area di lunghezza d'onda che noi poi a livello percettivo chiamiamo il verde quindi diciamo che questa è una delle ragioni il rosso e il blu a parità di intensità luminosa noi le percepiamo tre luci una rossa una verde una blu come meno brillanti il rosso un po meno brillante il blu molto meno brillante di un verde sto andando in maniera assolutamente cioè i colleghi scienziati mi abbatterebbero in questo momento ma sto iper semplificando la cosa però qui ti riferisci tu proprio perché il verde è così importante soprattutto in certe fotografie di paesaggio dove guarda io mi ricordo visto che parlavamo di calabria prima che una volta mi sono trovato in sicilia quindi molto vicino a voi e era marzo me lo ricorderò sempre e mi portarono una valle dei templi c'è un punto lì sotto dove c'è è molto famoso credo si chiami giardino della colimbetra ed è praticamente io rimasi senza fiato che mi dissero sei fortunato che lo vedi in marzo perché qui il sole è così forte che se viene in maggio è tutto bruciato non vedi più niente ma in questo piccolo avallamento io credo nella mia testa ho visto un milione di variazioni di verde d'accordo cioè c'erano tutti i verdi che potessi immaginare ogni pianta aveva il suo verde è una cosa che toglieva il fiato veramente in mezzo naturalmente al contrasto dei fiori gialli dei fiori bianchi delle rocce arancioni quindi era un'esplosione di colori e io cosa feci direi fuori la mia macchina fece una foto era ben esposta era una buona macchina arrivai a casa aprirlo e non c'erano i verdi nel senso sì era tutto verde ma era anche tutto dello stesso verde questo è il punto mancava la variazione perché ci sono tanti motivi ma il punto è che dobbiamo rassegnarci al fatto che un sensore non riesce a vedere come noi è più preciso di noi dal punto di vista della della cattura puntuale di uno stimolo di colore ma non è così bravo a interpretarlo ed è per quello che noi ci andiamo giù pesante con la post produzione perché in qualche modo emotivamente vogliamo riportare quello che abbiamo visto oppure quello che non avendo visto la scena pensiamo che avremmo voluto vedere e quindi qui si entra in un campo che è complicatissimo perché è a metà fra il tecnico e l'interpretativo se volete poi vi faccio vedere una cosa a questo punto di vista ma più specificamente l'episodio a cui ti riferisci tu è nasce da un'osservazione interessante molto interessante che tra i due generi parlo naturalmente di persone esseri umani noi quindi il genere maschile genere femminile c'è una curiosa differenza percettiva cioè prove sperimentali esperimenti fatti che noi uomini siamo più bravi a distinguere il blu dal giallo che sono due colori opponenti complementari rispetto alle donne che invece però ci battono regolarmente tra il verde e il rosso detto in altri termini davanti a una bacca su delle foglie rosse diciamo che una donna percepisce di più e non marginalmente di più significativamente di più una differenza fra questi due colori rispetto a quello che percepisce un uomo mentre noi siamo molto più bravi tra il blu e giallo anche uno potrebbe dire beh è una differenza di tipo genetico non le donne sono fatte in un modo gli uomini sono fatti un altro che ne so potrebbe essere l'equilibrio medio del conteggio dei coni negli occhi no non c'entra niente è una differenza di percezione data da ragioni chiamiamole così culturali più ampiamente antropologiche praticamente noi abbiamo è stato appurato che anche se tu cambi un po il numero di coni che ci sono nell'occhio essenzialmente la percezione del colore che pure diversa leggermente individuo individuo non cambia in questo modo e non c'è niente che differenzia i maschi dalle femmine in maniera poterlo spiegare scientificamente è l'unica possibilità qual è è pensare che se andiamo indietro 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 a livello evolutivo il motivo principale che noi abbiamo sviluppato e non si sa esattamente quando la visione cromatica a un certo punto prima il mondo era del tutto non differenziato nel corso dell'evoluzione del sistema visivo cioè vedevamo scala di grigi vogliamo chiamare così poi pian pianino pian pianino pian pianino la differenziazione dei coni delle cellule ha portato alla visione tricromatica fermo restando che oggi si sta studiando anche la visione quadricromatica nel senso deciso tetracromatica scusate ci sono delle chiamiamole anomalie in realtà è un vantaggio in questo caso genetiche soprattutto femminili per cui certe donne hanno quattro tipi di coni e sembra che possano discernere molto meglio certi colori ma tornando a noi perché abbiamo imparato a distinguere il blu dal giallo beh perché è molto semplice guardiamo la struttura fisica e anche alla struttura sociale delle dei primi gruppi di omiditi perché siamo ben prima della storia dell'uomo in senso stretto cosa fanno i maschi che sono strutturalmente più forti vanno a caccia e per andare a caccia perché quello che ci ha salvato alla fine è questa roba qua il pollice opponente cioè io sono in grado di prendere una pietra un giavellotto e tirartelo alessandro se mi fai incazzare anche a distanza se ti becco con una freccia con una giavellotto una lancia o quello che ha una pietra e punto giusto ho vinto io ti porto a casa e con rispetto ti mangio nel senso che questa è la vita questo è il ciclo biologico che ci fa andare avanti se voglio dire voglio dire è divertente pensare a un leone che tenta di impugnare un giavellotto perché perché la zampa del leone non ha sta cosa ma non è stato solo il pollice ponente è stato il fatto che noi alla preda in qualche modo potevamo localizzarla e mirare ora siccome tutto questo avviene nella savana che è tendenzialmente gialla a livello proprio per bruciatura della vegetazione dove gli animali che sono sopravvissuti alla selezione naturale sono caratterizzati da un mimetismo molto forte perché se io sono convinto che la pantera magenta entrata in scena ma è durata quei centomila anni poi se la sono magnata cioè questo è è difficile per un animale variopinto vivere in in un posto dove è molto apparente quindi chi è che sopravviveva i leoni le tigri cioè tutti i mammiferi che se guardi hanno enormi variazioni del colore del mantello ma sono tutti in quell'area cromatica giallo rosso arancio ecco è difficilissimo più unico che raro trovare un mammifero che abbia il pelo blu mandrillo a delle aree blu ma è un'eccezione diverso è per i pesci per gli uccelli vedicendo quindi cosa succedeva animali che si mimetizzano e noi dobbiamo imparare a distinguere il loro colore quindi prima di tutto il giallo del terreno e dell'animale rispetto al blu del cielo perché se vedo tutto grigio addio che la gazzella mi dà nell'occhio e poi pian piano a discernere sempre di più le micro variazioni di giallo mentre noi stavamo fuori a far bisboccia ea cacciare non è che le femmine stavano a casa con le mani in mano andavano a raccogliere bacche che sono mediamente tendenzialmente il frutto è nell'area del rosso e sta su una vegetazione che è verde specializzandoci in quella direzione il nostro sistema visivo si è evoluto e così maschi hanno di più la è l'unica spiegazione scientifica ragionevole una prova provata non ci sarà mai non ci sarà un test che possiamo fare un tampone con una sierologia per restare nei tristi temi di quest'ultimo periodo che ci darà una risposta ma è l'unica ipotesi sensata di che la del perché la percezione funzioni così le nostre abitudini che per secoli millenni decine migliaia di anni centinaia di migliaia di anni ci hanno portato in una certa direzione questa era la storia era bellissima secondo me secondo me assolutamente infatti mi piaceva mi faceva piacere che la condividessi peraltro mi era venuto in mente appunto rispetto alla domanda di prima al discorso di prima del legame tra musica e fotografia ecco io ne 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 parlo spesso ai miei corsi dai corsi base in cui si parla di composizione a quando poi si si avventura in discorsi un po più complessi ma anche appunto partendo dal dal dalla composizione fotografia è interessante come ci siano tantissime similitudini tra tra i concetti legati alla composizione in fotografia e in musica come il ritmo per esempio sia presente in una composizione visiva oltre che una composizione musicale come la presenza anche del silenzio sia fondamentale per poi riuscire a come dire ad accompagnarti verso un momento musicale in cui invece c'è magari una ricchezza di di note quindi più ritmo più varietà e così via ecco questo mi piace mi diverte molto fare spesso dei dei passare appunto da un'arte all'altra per far comprendere magari un concetto e l'altro discorso legato alla natura per esempio è che sia ragionando sulla composizione sia ragionando per esempio sui sulle sulle cromie sul colore sugli accostamenti che funzionano diciamo quello che funziona sempre e di sicuro al di là del fatto che poi ci sono teorie eccetera però quello che di certo funziona è quello che è presente in natura cioè se noi come dire partiamo da un rapporto compositivo che esiste in natura o se noi prendiamo due colori che in natura vediamo uno accanto all'altro abitualmente sicuramente ecco quella composizione o quella o quell'abbinamento cromatico funzionerà e questa è una cosa ecco che penso abbia a che fare anche un po con quello che hai che hai appena detto e che mi ha da sempre da sempre affascinato sì certamente sì anche se vorrei ti provo con io adesso mi piacerebbe sentire la tua opinione e premesso che per dire una cosa banale sul credo siamo tutti d'accordo un like su facebook vale zero nel senso non ha un non vuol dire che una cosa è bella però attenzione un valore in un certo senso ce l'ha in un altro senso allora se io pubblico due foto qualsiasi le chiamo x e y e lo stesso pubblico mette 10 mi piace a x e 200 mi piace a y io non saprò mai perché a volte la cosa mi sfugge completamente ma significa che in base a un qualche criterio culturale che mi sfugge medio la seconda è più attraente su questo non possiamo discutere quindi facebook ci dà perlomeno e parlo di like veri non comprati perché ci sono anche quelli perlomeno una misura statistica no ecco perché dico questo perché a me è capitato diverse volte allora io sono d'accordissimo con te sul fatto che il senso la proporzione questo e quest'altro ma ho anche un po paura di queste cose perché a mio modestissimo parere una delle cose che ci ha fregato a noi pur essendo stata fondamentale importantissima è l'illuminismo nel senso è questa abitudine che abbiamo ereditato a quel periodo di mettere tutto dentro delle scatole capisci per cui questo va qui questo va qui questo va qui e questo va qui e attenzione non solo perché vogliamo uso una metafora tenere i calzini separati dalle camicie che è una buona idea ma se non ci stiamo attenti questo fa nascere degli stereotipi per cui lo dico in maniera banale se sei un uomo ti devi comportare così se sei una donna ti devi comportare così i bambini si devono comportare così e questa cosa deve per forza funzionare così perché se no è sbagliata in realtà io ho la sensazione che questa cosa sia utilissima a un primo livello ma la realtà sia incredibilmente più complessa per cui scendiamo adesso da questi esempi enormi nel campo fotografico la regola dei terzi ti salva sempre nel senso che se tu la usi difficilmente sbagli raramente ho visto una foto in cui c'era una spirale aurea disegnata dentro una scosta grande così essere poco estetica ma il problema è se io mi forzo tutte le volte a ridurmi a quello mi sto chiudendo il campo da gioco e perché ti dico questo perché io credo che nella mia non posso chiamarla carriera perché non è una carriera ma nella mia piccola storia ho fotografato molti concerti dal vivo le due foto che sono state più apprezzate di tutte erano due clamorosi errori una era mossa ma proprio mossa brutta e non volontariamente però aveva questa cosa e un'altra aveva quattro errori di composizione pazzeschi ma l'ho fatta era come essere su quel benedetto elicottero in mezzo alla gente che mi spinge con 10 kg di design sulle spalle un 300 mm e le teste davanti eppure tra un sacco di foto quella è finita su una copertina a un certo punto e io mi chiedo e ce l'ho stampata in in soggiorno ce l'ho in casa è una delle mie foto importanti e io ogni volta che la vedo la guarda e dico madonna quanto sei brutta e poi dico no sei bellissima e e ci sono tutte e due queste cose che 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 convivono quindi quando parliamo di fotografia cos'è che deve veicolare la fotografia la bellezza la perfezione beh dipende che tipo di fotografia è uno still life è un ritratto è un paesaggio è una fototecnica non lo so è un reportage che un'altra cosa ma l'emozione congelare quel momento io ti dico lo ammetto sono un discepolo di roland bartz cioè per me la camera chiara tutta la vita al di là del testo basta guardare le immagini le sue didascalie per capire cosa lui vuol dire per me è quello e lì sono il primo a dirlo è come la foto di web che abbiamo visto prima ogni regola salta se è una foto potente a me non importa niente se è un po' mossa se sfocata eccetera assolutamente io sono sono molto punk io una volta ho pubblicato una cosa io non pubblico mai nei gruppi di fotografia perché hanno perché mi interessa ma una volta mi ricordo che ho pubblicato una foto e dopo tre secondi uno mi ha scritto dati di scatto e io non ho resistito ho detto guarda dico una lente un sensore è uno stronzo si può dire uno stronzo che preme il bottone io basta cioè questo è alla fine per me in ultima analisi se poi vogliamo discutere sul fatto che hai un obiettivo con un potere risolvente un certo tipo e che una medio formato ti darà un'immagine qualitativamente più bella di un iphone ma parliamone è un non problema è ovvio che è così ma mi ricordo critico un critico fotografico molto famoso pappalardo una volta catania lo sentì dire una foto non è fatta solo di numeri e ha una gran ragione secondo me questo è appunto però qui entriamo in un'altra in un'altra direzione ecco insomma ma infatti mi trovi assolutamente d'accordo credo che però qual è qual è poi una volta un amico mi ha detto eh tu dici che la tecnica non conta perché la tecnica la conosci e quindi io ti giro sì sì è vero è vero questo discorso anche perché per esempio una cosa su cui ho riflettuto sempre è che ho anche letto nei libri per esempio bresson sosteneva questo discorso no che tu devi come dire far diventare istintivo poi il gesto cioè non è che mentre scatti devi stare lì a pensare alla spirale aurea però se lo fai per un anno di pensare a determinate cose di concentrarti di fare attenzione poi piano piano diventa istintivo allora quello diventa più autentico più 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 interessante anche però appunto sono i libri si chiama l'errore fotografico e quindi penso che siamo sono molto d'accordo anche perché ti posso dire che in generale ecco il sto cercando una foto per l'inciso da farti vedere che penso eccola qua la apro così poi magari la ecco la condivido bene dicevo sono d'accordissimo su quello che dici quello che io dico sempre ai miei studenti è che se vuoi violare la regola dei terzi devi sapere come funziona cioè in perfetta controtendenza a quello che io sto dicendo quando io faccio che è un piccolo corsi fotografia non è un corso di fotografia quanto un'alfabetizzazione fotografica che passa anche per alcune sessioni di scatto ai miei studenti d'accademia perché bontaloro mi hanno messo a insegnare corsi tecniche tecnologie e fotografie gli dico dovete fare questa composizione me la dovete fare giusta perché quando poi si è incarnata la tradite e lo fate consciamente d'accordo pensa non so se questo ti fa ridere alcuni lo trovano incredibilmente crudele ma io sono convinto adesso mi sono un po moderato ma la prima volta fatto un corso di fotografia tu sai cosa ho fatto io ho obbligato tutti gli studenti a mettere il nastro adesivo nero sul sul monitor non volevo che vedessero le foto che avevano fatto perché io ho imparato che questo ridicolo movimento che noi facciamo che scattiamo e poi guardiamo scattiamo un po e guardiamo il tempo che ci mettiamo a guardare abbiamo perso cinque magari capisci io vorrei far vedere una foto che è una delle foto a cui sono più legato e che per me ha un significato tant'è vero che è stata poi scelta e inventata la copertina di un disco non tanto il davanti quanto la copertina sul retro che è stato l'ultimo album dal vivo di ron se io avessi guardato nel 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 monitor della macchina cosa era successo nella foto precedente ti assicuro che questa foto qui non l'avrei mai fatta perché questa cosa è durata mezzo secondo ok e se volete ve la spiego nel senso che questo è ron che tutti conoscono sta suonando da solo nel concerto c'era la band tant'è vero che vedete sono altre postazioni qui c'è addirittura un pezzo di contrabbasso che volontariamente non ho tolto anche se è strano alla foto e questo è il profilo lucio dalla perché questo è il suo concerto tributo all'amico lucio dalla e io la trovavo questa foto questa scena non la foto che ho fatto io la trovavo meravigliosa dal punto di vista simbolico cioè lui che sta cantando un brano che tra l'altro è anima scritto da lui sta guardando in su notare che quello che vedete un'illusione ottica lui non sta affatto vedendo questa cosa che è proiettata alle sue spalle lui sta semplicemente guardando in alto ma chiunque direbbe che sta guardando il suo amico e c'è questa luce rossa come il pianoforte che va a investire un microfono vuoto scusatemi ma questa foto ha un simbolismo pazzesco e sapete quanto è durato questo ve lo giuro mezzo secondo questa è la io stavo camminando dal fondo della sala andando sotto palco e quando ho visto questa cosa mi sono fermato ho tirato su e ho scattato e devo dire mi è andata bene mi è andata veramente bene perché non ho avuto il tempo di pensarci ma l'ho trovata così potente questa è stata fatta a bolzano che il giorno dopo io sono sceso ho scaricato ste foto e quando l'ho vista ho detto questa adesso la stampo grande ho chiamato il manager detto dove siete stasera a mestre vengo gliel'ho portata e vi assicuro che lui l'ha aperta e l'unica cosa mi ha detto è stato wow non è riuscito a dire altro e poi ne ha fatto una copertina perché perché è una di quelle foto lo ammetto è colpo di fortuna pazzesco perché se fossi stato mezzo metro più in là questa non veniva che ti racconta tutta una storia da sola e per fortuna dico per fortuna è a fuoco e mo non è mossa e veicola bene quello che deve veicolare sapete cosa ho fatto di post produzione assolutamente niente zero l'unica cosa questo sì è che le luci led qua sotto erano bruciate sono andato in lab le ho dipinte un pochino d'azzurro perché non fossero troppo invadenti è l'unica cosa che ho fatto e deliberatamente non sono andato a fare una cosa che probabilmente mi avrebbe adesso questo sto esagerando ma vedete qui c'è un pezzo di contrabbasso forse qualcuno potrebbe dirmi cosa ti costa fare un riempimento in base al contenuto di questa roba qua non lo so non sono anche mai provato ma credo che dovrebbe funzionare ecco e come se funziona addio contrabbasso non c'è problema qualcuno mi direbbe che una foto migliore io dico no è un reportage è così che era questo è un istante non importa niente se c'è un pezzo di contrabbasso io sono fatto così poi si può discutere da ecco vabbè tanto l'hanno tagliata fuori per questione di rifilo e altro no 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 c'è sul disco incredibile ma c'è è rimasto il manico contrabbassista non mi ha mai ringraziato ma il suo contrabbasso c'è allora ti giro ti giro qualche domanda ti va assolutamente vabbè qualcuno massimiliano ci chiedeva se mi hai pensato di tradurre in italiano i libri di di da margolis allora posso darti una risposta precisa ne abbiamo parlato molte volte non era una cosa che avrei dovuto fare io in realtà ma era una cosa che avevamo pensato di fare a livello di squadra e margolis stesso era molto contento di questa idea volete sapere perché non lo abbiamo fatto intanto perché la stampa di un libro del genere che è un librone di 400 pagine con tutte le immagini con la dichromia è molto costosa e bisogna trovare qualcuno che abbia voglia di investire su questa cosa e in buona sostanza nonostante un paio di tentativi nessun editore ha ritenuto interessante di fare questa cosa e tutto questo è molto triste per cui la risposta è no esiste una traduzione in italiano di un vecchissimo libro di margolis uno dei photoshop professional non mi ricordo neanche quale edizione forse la 2 o il 3 non lo so pubblicato da repli che margolis stesso diceva no non prendete quello perché ci sono così tanti errori di traduzione lui sa l'italiano cioè lui era preoccupato della traduzione tecnica ecco che non ne vale la pena quindi la risposta è purtroppo no la cosa più vicina che si può trovare alcuni articoli della documentazione del primo pannello ppv ecco lì c'erano delle cose in parte scritte da margolis e poi tradotte da noi da me e alessandro bernardi altre persone alcune cose le ha scritte ale alessandro appunto bernardi che tutti conoscono credo alcune cose le ho scritte io e però è molto macchia di leopardo mi dispiace in futuro chissà ecco insomma bene io stavo per pubblicare scusa io stavo per pubblicare un libro e avevo un accordo con un editore che nel momento in cui dovevamo andare d'accordo ha pensato bene di fallire il libro c'è devo solo trovare perché io non sono in grado di sostenere da solo una produzione sarebbe un incubo ecco tutto qua aspetta si ricordo che appunto abbiamo fatto anche il beta i beta lettori infatti fermo restando che oggi lo riscriverei da capo potendo però non escludo in futuro ecco insomma o cesare ciao ben trovato cosa ne pensi della cosiddetta fotografia computazionale ti dico la verità non ne penso perché ignoro completamente cosa sia metto totalmente la mia ignoranza non ho idea di cosa si riferisce a questo termine quindi se vuoi specificarlo meglio ma non lo so penso abbia a che fare con la intelligenza artificiale le possibilità che sempre di più vengono offerte dalla dalle nuove tecnologie quindi le foto che sostituiscono via via o anche penso i software che insomma più andiamo avanti e più sostituiscono la 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 il pensiero non so se adesso ci dirà meglio cesare magari passiamo passiamo un'altra domanda forse cesare la formula meglio poi la rivediamo è andato già via mi sa davide ha bellissima domanda ma ma io qui devo svelare un altarino cioè perché marco livotto si è trovato a fare fotografie di scena questa è la domanda io mi sono trovato a fare fotografie di scena semplicemente perché sentivo di avere un enorme debito di gratitudine nei confronti della musica e di certi musicisti in particolare per cui mi sono avvicinato credo con molta cautela dicendo posso fotografare il tuo concerto e ti dico la verità nessuno mi ha mai detto di no e ho alcune cose che ho fatto all'inizio di cui mi vergogno incredibilmente perché non è così facile però sapendo già fotografare un po a punto di vista tecnico poi ho capito come dovevo fare e mi sono trovato a fare quello che io chiamo un ritratto anomalo per me quello non è reportage in senso stretto è un ritratto anomalo il più delle volte non sempre perché è vero tu fotografi qualcosa che sta accadendo e non può essere un ritratto in senso stretto per due motivi che tu non puoi andare dal tuo modello o soggetto e dire scusa ti giri un attimo e non puoi neanche andare dal datore luci a dirgli mi fai questa illuminazione qua e a parte un episodio che poi vi racconto che è stato meraviglioso ecco quindi non hai il controllo del soggetto ma il controllo della luce che sono essenziali per il ritratto e quindi come fai a riprendere quello che è lo spirito della persona e mi dispiace ma secondo me c'è un modo solo devi rivedere 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 quell'artista fino a che capisci il suo codice io ci sono degli artisti che riesco a scattarli bene semplicemente perché quando li scatto so che cosa stanno per fare e di conseguenza cerco di rubare quel momento è una fotografia molto candid la mia però mi dicono perché io non sono in grado di giudicarla che si vede questa cosa in qualche modo e io sono contento di alcuni scatti che ho fatto peraltro non non credo che vorrei mai chiamarmi un professionista in questo campo perché non sarebbe giusto non so se è una risposta davide quindi questo mi vorrebbe da dire una cosa che mi ha fatto in mente una cosa un aneddoto di insomma le di qualche anno fa ero a proposito del fatto di capire quello che sta facendo l'artista in scena non so se ti è mai capitato di sicuramente insomma di vedere o comunque di ascoltare qualche album di maria joao che questa cantante totalmente fuori di testa pazzissima e meravigliosa e cavolo ero un concerto una volta stavo facendo le foto insomma è un certo punto avuto una specie di illuminazione cioè è come se ho capito quello ho pensato insomma quantomeno di essere riuscito a comprendere il suo linguaggio e come lei stava costruendo quelle improvvisazioni vocali e mi hanno colpito a tal punto che mi sono dovuto sedere ho posato la macchina fotografica e mi sono messo a piangere quasi e nel senso mi sono goduto il concerto perché era di una forza e di una di un'emissione indescrivibili comunque comunque daniele paviglianiti io ti condivido una domanda intanto chiedo a lui di spiegarci meglio questa domanda anzi partirei da questa perdonami marco a chi ha fatto a chi le ha fatte le foto perché tu prima parlavi di alcune foto scattate durante i concerti e intanto chiedo a daniele di spiegarci meglio questa questione delle foto di backstage l'altro approccio l'altra attrezzatura se ci fa una domanda un po più allora foto di scena ma guarda io ho cominciato timidamente e poi per amicizia a fotografare gli artisti direi dell'area chiamiamola csi questo gruppo che ha riscritto in pratica una parte rock italiano e che è vissuto grosso modo dal 1991 fino al 2002 2003 per cui parliamo di giovanni d'indo ferretti che era già uscito c'è stata per farla breve il gruppo si è riformato senza di lui a un certo punto ha cominciato da lì e dai suoi membri quindi c'è di marocco la massimo zamboni angela baraldi che era la cantante all'epoca giorgio canali mi ritrovavo spesso ecco e poi conoscendo loro sono aperte altre cose gli estra con giulio casale che un altro gruppo importante degli anni 90 che aveva fatto una reunion perché ho cominciato molto tardi in realtà e poi in ordine sparso beh mi è capitato di fotografare in subsonica perlomeno ufficialmente max gazzè carmen consoli emidio clementi di massimo volume ultimamente negli ultimi mesi non ho fatto più tantissimo perché sono poi molto legato a loro e spesso faccio le foto semplicemente che vado a trovarli ai concerti ron certamente l'ho fotografato almeno tre volte mi ha sempre fatto molto piacere tra l'altro ho avuto l'onore di fare una foto di un evento inaspettato l'ultimo concerto da tournée di rona hanno fatto una sorpresa mi hanno fatto arrivare sul palco viaggio antonacci lui non lo sapeva lo sapevamo il manager io e i musicisti perché il suo manager mi ha detto tu in questo brano ti devi metterli e mi raccomando punta questa cosa foto che poi non ho mai pubblicato ma le ho e sono bellissime perché al momento così candido vedi proprio la la sorpresa questo questi il grosso di quello che ho fatto sostanzialmente ecco ok 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 allora daniele tornando a lui così chiudiamo questo discorso legato ai appunto alla sua domanda ai concerti si domandava proprio quale fosse l'approccio che usi nel backstage ammesso che tu lavori anche nel backstage oltre che in scena ecco sì no io uso un corpo macchina solo pur avendone due io sono sul versante canon non per partito preso ma mi sono trovato lì mi sono trovato bene quindi continuo in quella direzione io ho una 5 di mark 2 che la mia macchina precedente sono 5 di mark 4 siccome sono sempre da solo ed è già abbastanza pesante vado sempre con la mark 4 guarda ti dico è molto semplice io ho solo quattro obiettivi ammetto che mi manca un grandangolo estremo questo si io 24 70 solito canonico un 5 scusa un 50 f 1 e 4 un 85 f 1 e 8 e poi un 70 200 non faccio altro anche perché non dovendo fotografare dal pubblico nel senso che gli artisti sanno che io ci sono ho l'accesso sono molto privilegiato e posso fotografare da vicino addirittura dal palco certe volte per il backstage dipende alle giornate io molte volte molto il 50 vado con quella mi piace muovere le gambe più che la ghiera dello zoom sostanza per il backstage mi sento molto cartipresso vado in giro e rubo sostanzialmente è bellissimo backstage ecco davide di nuovo che vuole capire se fotografare abbia influenzato modificato il tuo metodo di insegnamento e gli stessi concetti che poi vai a trasmettere davide sei cattivo e fai delle domande critiche io credo che non sto scherzando io credo che tutto quello che ha fatto ha influenzato tutto sinceramente per cui sì ma non so dirti in che termini cioè posso dirti che iniziando a fare delle fotografie che poi sapevo sarebbero state magari pubblicate o così e non erano più semplicemente il mio egoistico esercizio di mi mi sono interrogato su come migliorare come fare meglio ho dovuto approfondire ho studiato certe cose nel senso che sono stato a leggermi dei libri sui grandi maestri della fotografia e non credo che sarei mai arrivato a leggere la camera chiada la camera chiara di roland bars sul per esempio che è uno dei libri fondamentali per me che mi ha influenzato tanto a livello di lettura dell'immagine se non mi fossi messo a fotografare in questo modo questo sì e i miei studenti sanno benissimo che io lo metto come testo assolutamente obbligatorio ne do due o tre non di più ma questo lo è per me nel corso di fotografia sanno anche che sono un insegnante così buono che quando non lo leggono perché nessuno lo legge fino in fondo poi all'esame non mi arrabbio troppo però adesso per esempio la mia laureanda ha capito che era importante e magari in extremis ma sta lavorando proprio su quel testo perché sta tornando tutto quindi ritorno al punto di prima buttiamo l'amo buttiamo lo stimolo e vediamo cosa viene fuori che poi le cose arrivano insomma guarda maria teresa mi ha tolto le parole di bocca perché anche se conosco già almeno in parte la risposta che darai ti stavo per chiedere di darci un paio di consigli su qualche libro interessante o sulla fotografia o sul colore o o anche una cosa che non c'entri nulla insomma quello che ti viene in testa domanda di riserva allora dunque io direi questo se parliamo di colore tecnica non è per partito preso ma continuo a pensare che dal punto di vista della mentalità del flusso di lavoro l'opera di margolis nonostante alcuni libri siano vecchi 12 o 13 anni quindi assolutamente vetusti su una scala di sviluppo software voglio dire che ogni sei mesi ci bombardano ogni sei mesi no ma ogni anno ne esce una nuova da quest'anno photoshop 2021 ti fa anche il caffè espresso perché il caffè normale te lo faceva già 2020 non me ne frega niente che photoshop faccia il caffè dovrebbero togliere certi bug sarebbe più importante ma ecco la cosa divertente è che le cose che io faccio guardate che la foto che vi ho fatto vedere prima se voi mi aveste dato ok non c'era camera raw all'epoca ma mi aveste dato un come si dice un'immagine così piatta come quella vi ho fatto vedere mi avessi detto puoi tirare fuori questa io l'avrei fatta tranquillamente con photoshop 2 e non cs2 2 intendo 30 anni fa non è che usiamo niente di più quella roba lì si fa con le curve alla fine solo che bisogna fare in un certo modo si fa con lab si fa con le maschere ma sono elementi molto se sono strumenti molto semplici da usare quindi quei libri hanno ancora un valore didattico forte secondo me per come sono fatti sulla gestione del colore beh il classico real world color management di bruce fraser e compagnia bruce fraser è mancato purtroppo da anni ma il libro è sempre stato curato nelle edizioni successive dal suo staff dei suoi collaboratori ed è fantastico e tutti e due questi hanno il problema di essere in inglese allora se vi devo dire i tre libri che io consiglierei a chiunque in italiano per avvicinarsi al mondo del colore e dell'immagine però attenzione non fotografica sto pensando proprio come concetto allora guardate in cima alla lista perché finalmente è uscito un libro che parte da un punto arriva a un punto ed è coerente bellissimo prima lezione sul colore di mauro boscarola questo è uno dei testi fondamentali che ha secondo me il vantaggio di essere agile perché è un libro di credo meno di 200 pagine e oltre che agile naturalmente costa 15 euro quindi alla portata di tutti dal punto di vista divulgativo un classicone il colore della luna di paola bressan che occupa si occupa molto di visione di lei è una psicologa che si occupa di percezione ed è incredibilmente brava ha vinto anche un premio per la divulgazione chi vuole andare un po più in live una visione a 360 gradi anche sull'arte anche parlo di pittura di storia di 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 un libro fantastico è cromorama di riccardo falcinelli che anche quella per me lettura obbligata e in campo fotografico beh come si fa non lo so beh roland bartz sulla lettura dell'immagine susan sontag direi io sono molto retro andrea speininger lo adoro il mondo come io lo vedo per dire e se avete lo stomaco assolutamente andatevi a leggere quello che che scriveva se l'adams sul sistema zonale io vi racconto solo una cosa che mi ha sempre fatto molto molto molta impressione c'è un mio amico fotografo c'era compianto non c'è più alfredo sabatini curiosamente in italia non tantissimi lo conoscono lui era un fotografo pazzesco lui ha fatto principalmente moda glamour cose del genere ma era nella sua anima un ritrattista lo conosco relativamente poco perché ha lavorato più all'estero che in italia poi è venuto in italia e adesso gli ultimi anni a sua vita era stato in brasile ed è mancato per una malattia e io l'ho incontrato una sera ho visto suo portfolio ed era impressionante giuro che mi ha impressionato soprattutto il fatto che lui abbia parlato per tre ore ruota libera davanti a 40 foto amatori per altro evoluti silenziosi immobili che guardavano sta cosa e non ha mai parlato di fotografia nel senso ha parlato delle sue esperienze ha parlato e raccontava le sue immagini ma non ha approfondito la tecnica così è stato enormemente arricchente li siamo diventati amici e una volta sono andato a trovarlo a milano e la cosa mi ha fatto più impressione mi diceva sai quando io avevo non so vent'anni 22 anni ho mollato tutto anche una cosa sicura che potevo fare qua e me ne sono andato in america perché volevo vedere il mondo e a me interessava la fotografia e la prima cosa che ho fatto o una delle prime è stato andare a vedere le foto originali di ansel adams perché io volevo diventare paesaggista e quando ho visto le foto di adams ho detto forse è meglio di no e sono diventato ritrattista foto che tra un po saranno state fatte cent'anni fa ma che ancora oggi non riusciamo a raggiungere in un certo senso quindi quei libri un'occhiettina la darei poi quello che volete insomma esatto esatto no peraltro ieri proprio appunto in questo incontro che citavo prima parlavo proprio della volta in cui ho visto delle stampe di adams dal vivo e cavolo ti prendono a schiaffi cioè fanno un riferimento assoluto da raggiungere diciamo cioè se vogliamo porci un obiettivo ecco vorrei stampare come vorrei stampare come ansel adams ma scusami se sono polemico ma a me piace vedere fotografi che pure parlo soprattutto i foto amatorie che pure hanno fatto un loro percorso che sanno le cose sentenziare a me salgado non piace esteticamente è lecito però io sono andato a vederle le mostre di salgado quando erai treoci a venezia per esempio e mi verrebbe di dire a questi fotografi prova a rifarlo cioè mettiti fallo davvero capisci a non ti viene parliamone perché quando tu entri e vedi una foto stampata a quattro metri di larghezza e dici madonna cioè e te la vedi addosso in qualche modo devi passare devi considerare quanta tecnica e quanta e quanta precisione quanta cura è passata o prima dell'ispirazione ancora questa è la cosa che secondo me c'è oggi sai scatti anche al buio insomma per dire assolutamente assolutamente peraltro sì io devo dire poi ho visto anche il sale della terra così è chiaramente personalmente preferisco i lavori più datati certo però però assolutamente stiamo parlando sempre di autori che comunque producono dei dei lavori incredibili e poi nel caso specifico alla parte tecnica delle stampe che sono sempre da un punto di vista tecnico ineccepibili oltre che avere un impatto certo comunque dai io sulla su salgado e sulla bibbia di ansel adams ti 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 vorrei ringraziare per questa piacevolissima gacchierata siamo stati assieme un'ora e 31 minuti e quindi abbiamo superato l'ora e mezza ci sono ancora una trentina di stoici che stanno resistendo che ringraziamo e che salutiamo quindi grazie mille alla prossima di rivederci presto magari appunto dal vivo magari nuovamente in calabria va bene grazie a tutti è che siete venuti poi rivedrò chi eravate nel viene salvata sì la cosa la tenete per la settimana prossima lo mettiamo insomma domani dopodomani o al più tardi lunedì lo mettiamo anche sul mio canale youtube quindi sarà disponibile anche lì e niente dai speriamo di incontrarci presto un abbraccio e grazie mille ringrazio tutti e ringrazio te alessandro davvero a presto